A dieci giorni dall'ultimo evento alluvionale che ha colpito la nostra regione, continua la conta dei danni. Tra i settori più colpiti, quello delle piccole e medie imprese e quello agricolo. Luigi Di Lauro è in diretta per noi a Serra Marina. Luigi, com'è la situazione lì? Sì, Maria Rosa, la situazione è quella che vi mostrano le nostre immagini. Alle nostre spalle ci sono dei tendoni dove c'è uva da vino, 1.500 quintali che aspettano di essere raccolti. Uva che probabilmente rimarrà ancora per giorni su questi teloni perché purtroppo il maltempo ha causato danni incredibili. Danni che sono sicuramente paragonabili a quelli dell'alluvione del marzo 2011, se non addirittura peggiori rispetto al 2011. Sì, stiamo di nuovo ponte da capo. Io sono una delle tante aziende colpite e dal 2011 a oggi stiamo di nuovo nello stesso fango del 2011. Il problema è che qua la regione ci ha fatto tante di quelle promesse ma in effetti nessuno si è mosso, nessuno ha fatto qualcosa per noi. Insomma, in questi due anni i fondi che erano arrivati per l'alluvione del 2011 sembrano aver fatto il solletico a questo territorio. È certo che ha fatto il solletico. Se non fosse per il milione di euro è stato distribuito a un centinaio di famiglie. Ma tutto il resto non è ancora, non è stato risolto. I progetti impantanati, quindi aziende che hanno ricostruito senza avere un centesimo perché quel PSR che è stato attivato per poter mettere sulle aziende non si è ancora concretizzato. E intanto, per esempio, per dare sostanza alle parole, 1.500 quintali di uva che restano lì, che cosa significa in termini economici? In termini economici 1.500 quintali di uva pesa ancora i ceppi perché l'acqua l'ha danneggiata, ha distrutto la strada per accedere al raccolto. Significa far fallire l'azienda, insomma. Se l'uva deve andare in cantina, che non può andare in cantina perché l'uva da tavola non va in cantina, significa perderla sui ceppi. Una situazione drammatica. La mobilitazione da queste parti non si è mai fermata, però nei prossimi giorni riprenderà con maggiore forza. Il comitato difendiamo le terre ioniche torna in pista perché dice in questo momento bisogna fare presto, anche perché la stagione invernale purtroppo è dietro l'angolo. Sì, non siamo a marzo, siamo a ottobre, i frutti sono nei campi, ma soprattutto questa volta rispetto alla volta scorsa il dramma è molto più ampio, i paesi sono stati colpiti e il segno non è più quello di un evento straordinario. Ha semplicemente piovuto, ha piovuto in un'area concentrata come capiterà sempre più spesso nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Servono misure. 350 milioni di euro di danni accertati per l'11 marzo scorso, di cui sono in Basilicata, se ne sono stati stanziati solo poco meno di 15, ne sono arrivati poco meno di 4. Quindi briciole su briciole. A questo giro riparte la mobilitazione, ripartiamo da Serra Marina, incontri, riunioni, martedì saremo con una delegazione a Roma. Primo obiettivo far dichiarare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non siete più disposti ad aspettare 10 mesi? Non solo non siamo disposti ad aspettare 10 mesi, ma questa campagna elettorale che ci aspetta di fronte a noi sarà assegnata dalla nostra presenza. Bene, da Serra Marina per il momento è tutto. Ovviamente noi continueremo a seguire la situazione. La linea torna allo studio.